Sbiccherando nel borgo un po' riassume quella che era la passione di Antonio ma anche il suo lavoro, tre giorni appunto per ricordare Antonio Recanati. Soprattutto sì, per ricordare la sua onestà professionale che andava al di là dei colori politici, delle ideologie. E ecco proprio questa sua onestà, questa sua capacità di entusiasmo dimostrato sia per cose minori che per cose maggiori e soprattutto per il suo amore per la sua terra, proprio per il centro storico di Loreto. Dove noi abitiamo e dove siamo cresciuti e che magari ecco un pochino diciamo abbiamo visto negli anni lo spopolamento, quindi un po' la perdita di valore. Ecco che lui aveva questo, comunque era un suo sogno che prima o poi voleva fare una cosa del genere. Questa è stata un'occasione anche per tenerlo vivo tra di noi e proprio per omaggiare la sua onestà professionale. Ecco ci sarà un premio giornalistico proprio intitolato ad Antonio e poi una serie di manifestazioni che animeranno la tre giorni. Sì, la prima sera ci sarà questo premio giornalistico con premiati alcuni nomi di colleghi, di suoi colleghi che maggiormente forse un pochino più legati alla sua figura professionale. Poi nelle giorni a seguire ci saranno dei convegni sui prodotti tipici della terra, soprattutto che caratterizzano il territorio di Loreto, che è l'olio e il vino. Tante aziende hanno voluto aderire proprio per ricordare Antonio. Sì, tante aziende hanno raccolto questo nostro appello, si sono veramente prodigati e saranno presenti nomi importanti legati al movimento del turismo del vino. Abbiamo dato un posto a loro particolare in questa location, proprio quasi a volerli un pochino, metterli in risalto.